Book 2 13 Attività Che cosa fa Marta? Lavora in ufficio. Lavora al computer. Dov'è Marta? Al cinema. Guarda un film. Che cosa fa Peter? Studia all'università. Studia lingue. Dov'è Peter? Al bar. Al bar. Beve un caffè. Beve un caffè. Dove gli piace andare? Dove gli piace andare? Ai concerti. Ai concerti. Gli piace ascoltare la musica. Gli piace ascoltare la musica. Dove non vanno volentieri? Dove non vanno volentieri? In discoteca. In discoteca. Non gli piace ballare. Non gli piace ballare. Gli piace. Lavora al film. Gli piace bertambur.